La legge che la Presidente Finocchiaro ha presentato e sul quale voi avete trovato il consenso è un emendamento truffa. Io ribadisco che è un emendamento truffa, perché come si fa a stabilire con una legge nazionale, ad esempio le dico, quali modalità fare se ogni regione ha delle diverse modalità di elezione di consigliere regionali? Se qualche regione ha ancora i listini bloccati, se qualche regione ha solo preferenze, come si fa con una legge nazionale ad andare a inserirsi in quel meccanismo lì? Anche perché in questo emendamento non si parla dei sindaci, i 21 sindaci eletti, cioè i consiglieri regionali eleggeranno, vi porto l'esempio della Lombardia, 1530 comuni, 1530 sindaci sono solo nella regione Lombardia. I consiglieri regionali dovranno scegliere uno tra i 1500. C'era una canzone famosa, uno su 1000 ce la fa, uno su 1500 ce la fa. Oggi vi chiedo semplicemente, chi può, chi vuole, di fronte all'Italia, di dire riportiamo il testo della Costituzione a quello che era, tre semplici righe, che anche un bambino può capire. Diciamo subito, se vogliamo, una Costituzione bella, perché semplice e intellegibile a tutti, oppure una Costituzione fatta da zecca garbugli. Dentro la riforma Costituzionale c'è la famosa riforma del Senato. Attenzione, riforma e non abolizione. Oggi il Senato è composto da 315 senatori, più quelli a vita. Con la riforma diventeranno 100, ma attenti al trucco. Saranno 74 consiglieri regionali, 21 sindaci, 5 membri nominati dal Presidente della Repubblica. In totale 95 senatori saranno ripescati dalla classe politica più corrotta del Paese. Con questa riforma nessun senatore sarà scelto dai cittadini. Sappiamo però che tutti godranno dell'immunità parlamentare. Ci dicono che non prenderanno lo stipendio, visto che a pagarli ci pensano già le regioni, ma nelle loro tasche finirà un rimborso spese che ad oggi non ha alcun tetto. Ma ci chiediamo, se stanno in Senato, come faranno i futuri senatori a fare contemporaneamente e bene i sindaci e consiglieri regionali? Il Movimento 5 Stelle sta combattendo la sua battaglia in Parlamento per una politica che davvero costi meno e funzioni meglio. Non solo protesta, ma tante proposte. Senatori eletti direttamente dai cittadini, taglio anche dei deputati e dei loro stipendi, referendum consultivi, propositivi e di indirizzo per dare più potere ai cittadini. Porte chiuse i condannati e dopo due mandati tutti a casa. Ma tutto questo a Renzi e Berdini e al PD non piace. Per fortuna i padri costituenti pensarono a un referendum. In questo modo saranno i cittadini italiani a dire no a questa riforma. Presidente Renzi, se 7 milioni di italiani senza lavoro e 10 milioni che non vivono ma sopravvivono non meritano una risposta ai suoi sprechi e ai suoi vizietti, allora lei non merita gli italiani. Ha aumentato le spese di Palazzo Chigi, parlano i numeri appunto, per 140 milioni di euro. Presidente Renzi, cosa vogliamo fare? Investire oltre 170 milioni di euro per il suo nuovo e inutile giocattolino, l'Airbus 340, o investire negli italiani che lei dovrebbe rappresentare? E mentre lei prenota un nuovo e inutile aereo personale, il suo governo lascia i trasporti del sud a un livello medievale discute di ponti sullo stretto. Segnali elettorali per la criminalità, mentre metà del paese è senza treni. Con quei 140 milioni di euro noi daremmo un abbonamento annuale ai mezzi di trasporto da almeno 500 mila famiglie italiane. Lei, i suoi ministri sottosegretari, invece di andare a piedi, come annunciato, ci costate 106 milioni di euro in leasing di auto blu. 26 milioni in più dei precedenti governi, 2.000 autovetture in più. Lei, presidente Renzi, ha raccontato a Rete Unificate di voler mettere il turbo al paese. Ma la sua è una truffa stile Volkswagen. Ci inquina di promesse mai mantenute, consuma troppo e trucca i dati su occupazione e crescita. L'unica crescita visibile e reale oggi in Italia è quella della voglia di onestà dei cittadini italiani e di un movimento pronto a prendere la guida di questo paese. Oggi in aula abbiamo fatto calare la maschera al Partito Democratico. A nostra precisa domanda hanno ammesso di voler ancora considerare il progetto del Ponte sullo Stretto, cedendo al ricatto di Alfano. Ancora il Ponte sullo Stretto di Messina. Parliamo di due regioni, Calabria e Sicilia, in cui mancano le strade, mancano le ferrovie, i ponti che crollano, praticamente due regioni quasi isolate. Noi, una volta passata l'era dell'ex ministro Lupi, pensavamo che fosse forse cambiata la gestione. Invece Del Rio, il ministro che si diceva contro le grandi opere, sta ripercorrendo esattamente la stessa strada. Noi vorremmo che i soldi venissero investiti invece che per opere vecchie e inutili, finalmente per una mobilità sostenibile, per risolvere i problemi reali dei cittadini. Volkswagen, dopo aver immesso sul mercato dei veicoli che non rispondono ai limiti di emissione, truccando i software per il monitoraggio, sta tentando in altre maniere, tramite l'azione del governo tedesco, anche di agire legalmente su quella che è la legislazione europea in materia. Prossimamente verranno decise una serie di modifiche per quanto riguarda i test delle emissioni, quindi come vengono monitorate le emissioni e i consumi delle auto. Bene, cosa succede? Gli esperti tecnici della Germania stanno premendo affinché i limiti di queste emissioni vengano alzati. L'inquinamento atmosferico ci chiede chiaramente di agire in un'altra maniera. Il Movimento 5 Stelle tenterà di utilizzare tutti gli strumenti possibili per bloccare questa revisione di questo regolamento in modo tale da poter avere per strada dei veicoli più sicuri che non impattano sull'ambiente e sulla salute delle persone. Buongiorno a tutti, stiamo andando alla Procura per incontrare il Procuratore Pignatone per un esposto che abbiamo sottoscritto a causa del diniego di accesso agli atti per quello che riguarda i contratti derivati, stipulati dal Tesoro, quindi dallo Stato italiano. Non ce l'ha detto il MEF che ci ha negato l'accesso agli atti, ma ce l'ha detto Eurostat di 17 miliardi dal 2011 al 2014, probabilmente nel 2015 perderemo altri miliardi e è inaccettabile che un Parlamento della Repubblica, uno dei grandi gruppi di questo Parlamento della Repubblica, il Movimento 5 Stelle, al Movimento 5 Stelle, oltre il 25% alle scorse elezioni, adesso stanno al 31,5%, gli venga negato l'accesso agli atti. Consegneremo questo esposto sia alla Procura della Repubblica, sia alla Corte dei Conti, perché è giusto che comunque vi sia un controllo, anche se esposto, su quello che è stato fatto con questi strumenti finanziari derivati, stipulati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il tema delle migrazioni è un tema estremamente complesso ed è un tema di portata globale. Nell'ambito del nostro lavoro, del Parlamento europeo, ci siamo regati con la Commissione Affari Interni, Libertà Civili e Giustizia, prima a Lampedusa, dove abbiamo assistito agli sbarchi, e poi sulle navi che fanno monitoraggio delle acque internazionali nel Mediterraneo, ma anche imbarcazioni private, come la Phoenix, che fanno search and rescue, ossia salvano persone con fondi privati. L'esperienza di chi lavora nel Mediterraneo, di chi vive giornalmente, da mesi, se non da anni, quello che è un fenomeno ormai andato fuori controllo, è necessario, se vogliamo provare, a trovare delle soluzioni concrete e fattive, a breve, a medio e a lungo termine. Un tema così serio e complesso si affronta con soluzioni intelligenti e concrete. Non con la politica degli slogan, che non fa alto che aggravare la situazione e non risolve un bel niente. Allora, questa è una delle pale che porteremo in questa grande sala qui, perché queste sono tutte persone che finanzieranno Imola, il 17 e il 18 ottobre, la nostra grande festa all'autodromo di Imola, dove avremo comici, cantanti, i nostri portavoce, e parleremo di politica, di iniziative, e commenteremo un anno di cosa abbiamo fatto in Parlamento, nelle regioni e nei comuni, tutti insieme, per scambiare idee e anche delle critiche, perché no? I vecchi politici mangiano, noi portavoce del Movimento 5 Stelle invece serviamo da mangiare, perché non prendiamo finanziamenti pubblici e ci autofinanziamo anche attraverso queste azioni. Questa è la mia terza volta come cameriere al servizio dei cittadini, in una serata al parlamentare che ti serve, prima a Napoli, poi a Firenze, stasera a Roma, e ogni volta rimango sbalordito per l'abbraccio, proprio per l'affetto che ci danno tutti i cittadini che vengono qui a contribuire, a passare una serata, una festa con noi, per darci un contributo, che è un contributo prima d'affetto, poi economico, e che ci spinge ancora ad andare avanti.